Torniamo a parlare di nuovo di un fenomeno che seguiamo purtroppo da tanto tempo, quello delle gomme forate. E lo facciamo proprio perché sono tornati a colpire i vandali che in questi mesi hanno fatto parlare di loro per questi gesti. Negli ultimi giorni è stato oggetto dei ferri taglienti di questi vandali la zona dei Cappuccini, in particolare via Maria De Peppo Serena e via Frisoli. Ancora una volta i residenti hanno trovato stupiti le gomme delle loro macchine a terra. Sembra che i vandali agiscano sempre con lo stesso modus operandi e che dato l'aumento delle segnalazioni da parte dei proprietari delle auto colpite, la loro attività stia diventando sempre più frequente. La precedente segnalazione c'era giunta poche settimane fa da Piazza del Carmine, quando un residente aveva espresso tutta la sua perplessità mostrando alle nostre telecamere i danni che avevano subito le sue gomme e dove erano state colpite tre macchine proprio nella notte tra Natale e Santo Stefano. L'uomo aveva auspicato una presenza maggiore per le strade da parte delle forze dell'ordine affinché si potesse intergenerare il problema. Da quel giorno chi ha potuto ha rinchiuso la propria macchina nel garage, evitando di lasciarla alla merce dei vandali. Non tutti però possono permettersi questa comodità e in molti continuano a passare notti insonni con la paura di svegliarsi con le gomme a terra, cosa che crea un danno in termini economici non indifferente. La gente, come aveva già proposto un residente dopo l'ultimo sabotaggio, comincerà ad organizzarsi da sola per pattugliare le zone? Speriamo non si debba arrivare a tanto.